Allora, vediamo un po' CQ banda 20 metri, CQ banda 20 metri, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, barrato portatile in QRP, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, barrato portatile in QRP, QRZ Italia Z8, Sierra Kilo Golf Buongiorno Italia Z8, Sierra Kilo Golf, 5,9, 5,9 reali per te, sono Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, in portatile QRP Stavo provando un'antenna, ero in chiamata con un collega della zona 2 ma sicuramente c'è lo skip lungo A te il cambio Italia Zulu 8 Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portatile in QRP Ok, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, in QRP, ti ascolto discretamente bene, ti passo i tre punti per il diploma Canova, città di treviso, cambio Ecco, concorso, ecco, Alfa 3, Radio Charlie Apa, ecco, Alfa 3, Radio Charlie Apa, ottengo il tuo concorso di TV, TV1, 1, 7, 4, Italy Zulu 4, Victor, Queen Sierra, Italy Zulu 4, Victor, Queen Sierra, portatile in QRP Italy Zulu 4, Ray, please Italy Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, Italy Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, portatile in QRP QS, Italia Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, QRP, 5,7, 5,7, 5 punti per te per il contesto, QS Sì, buongiorno, con le scuse, con la buona giornata, qui da Italia Whisky 1, Roma, Livorno, Siena, stavo provando un vecchio apparecchio e visto che vi ascoltavo così bene, volevo sapere se riesco a giungervi, se va tutto ok Per voi il vostro segnale è molto forte, oltre il 9, qui Paolo dalla provincia di Genova, ancora per te a cambio, grazie Allora mi permetto di entrare io, Italia Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, portatile in QRP, Paolo, Italia Whisky 1, Radio Lima Sierra Oh beh lì, mi fai 5,9 più 20, mica scherzi, a te il cambio Oh ciao, ciao carissimo, vedo sempre i tuoi video con estremo interesse su Youtube, arrivi benissimo, dove sei di bello oggi cambio?